Abbiamo alzato la posta, ci si è giocati tutto, anche il futuro dei nostri figli e adesso finalmente ci godiamo quello che ci spetta. Nel giungitore del premio Contafavi 2010, and the winner is Mary Rose Bertolazzi. Per il nostro corso gratuito, a livello della Piazza, a livello della Piazza, a livello della Piazza, a livello della Piazza. Avete scommesso sulla rovina di questo paese e avete vinto.